Questo è il mio ambiente, è il mio ambiente che mi sono creato ora per poter tutelare quello che io ho creato con la famiglia. Dopo quasi 40 colpi tra tentati e messi a segno, Freddy Pacini, un rivenditore di pneumatici e biciclette di Monte San Savino, ha deciso di dormire all'interno della propria officina. I primi tempi ho dormito qui in una brandina, dormivo qui e poi piano piano mi sono adeguato a cercare di stare perlomeno bene. L'autoreclusione di Freddy è iniziata circa 4 anni fa, quando dopo l'ennesima razzia subita ha deciso di trasferirsi nel suo capannone. Ha così realizzato il suo monolocale, una cameretta, un piccolo bagno di servizio ed infine una cucinetta, una soluzione che però lo tiene lontano dalla propria famiglia e dalla propria casa. Fortunatamente con due componenti della famiglia lavoriamo insieme, però è brutto quando arrivi alla sera che chiudi, ciao ciao a domani e ti rimani qui. L'anno nero per l'uomo è stato il 2014. Perché la quantità di materiale portato via è stata notevole, oltre 300 mila euro di roba. L'ultimo tentativo di incursione da parte dei ladri risale solamente a qualche giorno fa. Ho sentito dei rumori, mi sono alzato e mi sono accorto che c'erano delle persone che io non avevo invitato e che stavano rompendo un vetro. Ho cercato di farli andare via. Nonostante il suo triste primato, Freddy ha comunque deciso di non arrendersi. Non accetto. Dover chiudere la mia attività causa altri. La chiudo quando decido io e non altri.